420.000 convalide in tutto il 2021 per la linea Metro Mare, alle prese anche con i collaudi dei mezzi elettrici entrati in funzione a fine ottobre. Un anno ancora di transizione, come testimoniano i numeri. Tenendo conto infatti delle settimane di chiusura per prove e collaudi, si può stimare una media di circa 1.400 passeggeri al giorno, mentre nel 2020 il dato si attestava sui 1.100-1.150. Una crescita quindi molto contenuta, anche tenendo conto delle limitazioni di capienza dovute al Covid. I picchi si sono registrati ovviamente nel periodo estivo. In una nota di qualche giorno fa, il Comune di Rimini parlava infatti di 220.000 passeggeri durante la stagione. In tre mesi, oltre la metà delle convalide complessive dell'anno. Numeri che probabilmente non smuoveranno i più critici. Dall'attuale amministrazione riccionese, più volte infatti sono stati ricordati i 20.000 passeggeri al giorno che figuravano nel programma d'esercizio approvato dal Cipe. Impossibile al momento effettuare un confronto con la linea 11, i cui dati non sono ancora disponibili. Nel 2020 il confronto vide prevalere lo storico Filobus, che tra fine luglio e fine agosto totalizzò una media di circa 3.000 passeggeri al giorno, contro i 1.684 del metromare. Un problema di sovrapposizione che auspica possa essere risolto presto anche l'amministrazione di Rimini, che ha previsto una variazione di bilancio da 1,1 milioni in più per far fronte proprio all'aumento dei costi d'esercizio. Intanto, numeri a parte, la metropolitana di costa cresce. Sulla tratta Rimini-Riccione si intensificherà la frequenza nel periodo estivo, con una corsa ogni 10 minuti, e proseguono anche i progetti di ampliamento. Ufficializzati 49 milioni per il tratto tra la stazione di Rimini e la Fiera, nel 2022 si dovrebbero avere notizie sui finanziamenti richiesti per il collegamento Riccione-Cattolica e per la tratta fino al centro studi e alla stazione di Viserba.